Grazie, questo è un concerto molto speciale perché cantare nel mio quartiere è stato sempre il mio sogno, ma c'è una nota che mi rende ancora più felice perché questa festa domani non sarà finita. Le mani è un piccolo seme di speranza che tanti amici hanno voluto piantare con me, a cominciare dalle istituzioni, a cominciare da Don Damoli e da Don Mitiello. Mi auguro che tanti di voi ci aiuteranno a credere che nonostante le difficoltà e le paure di questi tempi non abbiamo perso la capacità di guardarci negli occhi. Mi piace raccontare questo di natale. I grattacieli le costranno, le corse, lo stress, esperimenti e mutazioni, il caos, lo smog, massificati sempre più di ieri. Adesso è il tempo di cambiare le radio, tv, senza bisogno di tornare indietro. Adesso è il tempo di cambiare le mode. Che treci senza bisogno di tornare indietro. E sei dove vai? Che fai? Che fai? Cadrei? Dove muoi? Con te? Considerando quello che succederà, la vita è un'altra. Senza bisogno di tornare indietro. Ci troveremo in internet, alle finestre, di un mondo che si sveglierà. Ma il sole è lì, sui vecchi stracci di un cloche. Che sogna già una, chissà, un cielo, un mare, un po' di vino puoi. E la vita è un'altra e lui lo sa, intanto piove, si alza e si allontana. E la vita è un'altra e lui lo sa, intanto piove, si alza e lui lo sa, intanto piove. E la vita è un'altra e lui lo sa, intanto piove, si alza e lui lo sa, intanto piove. E la vita è un'altra e lui lo sa, intanto piove. E la vita è un'altra e lui lo sa, intanto piove. E la vita è un'altra e lui lo sa, intanto piove. E la vita è un'altra e lui lo sa, intanto piove. E la vita è un'altra e lui lo sa, intanto piove. A se ficaro sempre più di è 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 È una musica legata